Per sfuggire all'arresto ha tentato di ingoiare 12 dosi di cocaina. Uno stratagemma pericoloso e anche inutile, quello escogitato da un sedicenne di Barletta, denunciato dai carabinieri della stazione del nucleo cinofili di Modugno nel corso di un servizio antidroga nella città della disfida. E' finito in manette invece il complice che era con lui, un 18enne incensurato. Ad insospettire i militari è stato l'insolito comportamento dei due giovani che, notata l'auto di pattuglia, hanno cercato di allontanarsi in tutta fretta. Poco prima di essere fermati per un controllo però, il più grande dei due ha rapidamente ceduto al minorenne un pacchetto di plastica che il ragazzino si è infilato velocemente in bocca nel tentativo di ingoiarlo. Un piano fortunatamente fallito, grazie al tempestivo intervento di un carabiniere che, accortosi di quanto stava accadendo, ha infilato le dita nella bocca del giovane ed ha estratto l'involucro contenente 5 grammi di polvere bianca ed evitandogli probabilmente conseguenze ben più drammatiche. Nelle tasche dei due baby pusher sono stati rinvenuti in oltre 260 euro in banconote di piccolo taglio sequestrati insieme alla droga in quanto provento dell'attività illecita. Per il maggiorenne, la procura della Repubblica di Trani ha disposto gli arresti domiciliari, mentre il più piccolo è stato denunciato. Entrambi sono accusati di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti.